Tradurre in pratica e in tempi brevi tutte le buone soluzioni trovate al fine di assicurare la continuità dei servizi della Fondazione Paolo VI di Penne. Così ha commentato Rocco D'Alfonso, ex sindaco di Penne, e ora nello staff del Presidente Luciano D'Alfonso, il tavolo operativo tenutosi ieri in Regione per evitare che dal 1 gennaio 2018 30 disabili restino senza assistenza. All'incontro erano presenti Angelo Muraglia, direttore del Dipartimento Salute e Welfare, Armando Mancini, direttore generale della Asle di Pescara, Stefano Boccabella, coordinatore delle aree distrittuali della Asle di Pescara, l'arcivescovo della diocesi Pescara-Penne e presidente del Paolo VI, Monsignor Tommaso Valentinetti, il direttore della struttura Don Marco Pagnello, il sindaco di Penne Mario Semproni e, in rappresentanza delle famiglie dei disabili, Alessia Cacciatore. L'incontro, fortemente voluto dall'associazione Abbattiamo le Barriere, che nei giorni scorsi si era fatto carico della protesta nel capoluogo Vestino, ha fatto emergere due tipi di problema, uno strutturale e uno più strettamente sanitario. Per prima cosa bisogna cercare una nuova struttura, individuata verosimilmente nei pressi del centro sportivo incontrata Campetto, già dotata di piscina e palestra, visto che quella esistente in Piazza Duomo non è più agibile ormai dal sisma dello scorso gennaio. Dal punto di vista, invece, sanitario, si è parlato della necessità di attivare un nuovo modulo sanitario e, di conseguenza, un nuovo set assistenziale che dovrà essere deliberato dalla Regione Abruzzo al fine di continuare a garantire l'assistenza. Nei prossimi giorni ci sarà un altro tavolo tecnico per valutare le soluzioni vagliate e scongiurare la chiusura del centro, visto l'imminente arrivo del nuovo anno e non far precipitare nel baratro l'area Vestina dal punto di vista socio-sanitario.